Bene, leggo qui che lei ha una laurea in scienze umanistiche Sì, esatto E mi dica, hai mai lavorato per un'azienda come la nostra? No, sarebbe la mia prima esperienza lavorativa Capisco, sai cosa significa lavorare per un'azienda così grande con la posizione per la quale si cambia? Gestire un flusso di operations volte a realizzare prodotti e servizi destinati ad un pubblico consumer nella fascia uomini adulti dai 35 ai 55 anni e monitorare l'andamento delle vendite secondo KPI che immagino verranno definite assieme ad un mio manager di riferimento Sì, esatto Quindi saprò anche dirmi quali sono gli indici di bilancio che dobbiamo monitorare? Ritorno sulle vendite, sugli investimenti, margini operativi loro E sa anche come possiamo gestire la capacità di coprire le attività immobilizzate? Monitorando il margine di struttura primaria E sa anche come si calcola? Capitale dell'azienda su attivo immobilizzato per cento Lunedì, ore 9 in punto, ufficio A32 Certamente Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS